Sfruttamento idroelettrico, recupero e gestione dei crediti, revisione del sistema informativo. Questi i nuovi obiettivi della Ruzo Reti presentati dal presidente Antonio Forlini. Secondo mandato per lei, intanto una soddisfazione già questa può continuare il percorso che ha intrapreso? Più che una soddisfazione è la consapevolezza che questo onere lo avrò ancora per tre anni. Devo dire che i primi tre sono stati utili per avviare un certo tipo di attività che adesso completeremo nei prossimi tre. Insieme al presidente fanno parte del nuovo CDA i neoeletti Alessia Cognitti e Alfredo Grotta. Tra i principali progetti che l'Acquedotto Terramano avvierà nei prossimi mesi ci sono la costituzione di una task force per il recupero e la gestione dei crediti, l'avvio di un progetto di sfruttamento idroelettrico e la revisione del sistema informativo per migliorare sempre di più i servizi all'utente. Stiamo già lavorando con alcune banche perché voi sapete che abbiamo diversi finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere importanti, depuratori e stendimenti fognari che hanno provvidenze pubbliche ma hanno la necessità di essere comunque assistiti in termini di esigenze di elasticità di cassa dalle banche con le quali stiamo lavorando. Questa è la cosa su cui stiamo lavorando in questi giorni. Dall'analisi del bilancio di esercizio approvato venerdì scorso dall'Assemblea dei Soci si evince una perdita di esercizio di oltre 750 mila euro, pari dunque a circa un quinto di quella registrata nel 2014. Il bilancio come sempre è il risultato di una serie di azioni che sono state portate avanti nel corso di questo ultimo esercizio. È un bilancio che denota dei miglioramenti sul fronte della posizione debitoria nei confronti di banche e fornitori, c'è la criticità del debito nei confronti del lato e quindi dei comuni per le rate di mutuo che ancora non siamo riusciti a pagare e poi c'è la criticità legata a un monte crediti che cresce di anno in anno e su cui sarà necessario intervenire in maniera tempestiva già appena diciamo nelle prossime settimane. Infine il presidente Forlini ha parlato dell'eventuale emergenza idrica durante il periodo estivo. Noi dobbiamo tener conto di un fatto che strutturalmente ci sono alcune criticità che evidentemente saranno superate solo quando il cosiddetto finanziamento sblocca Italia che collegherà il potabilizzatore alla costa attraverso la valle del Tordino eliminerà definitivamente queste criticità.